Quello che vi sono mostrato è un esercizio in isometria per il collo. Si può eseguire sia stando in posizione retta che seduti. L'importante è in tutti e due casi tenere sempre la schiena dritta. Se lo eseguiamo rimanendo in piedi per scaricare meglio la schiena teniamo sempre le gambe leggermente divaricate. Se invece lo andiamo a seguire su una sedia ci mettiamo in posizione comoda da fermata tenendo però la schiena ben poggiata allo schienale. Come fare per eseguire questo esercizio? Andiamo a mettere il palmo della nostra mano sulla nostra tempia in questo modo quindi tenendo il gomito abbastanza aperto e la nostra spalla sinistra rilassata quindi cerchiamo di non andare a sollevare la spalla quindi la spalla resta ben rilassata. Facciamo forza con il collo e opponiamo resistenza quindi io devo cercare di opporre resistenza con testa e palmo della mano sinistra cercando di fare forza con il mio collo. Rimaniamo per circa 30 secondi o il tempo necessario stabilito dal workout e andiamo ad invertire il movimento. Cerchiamo sempre di fare attenzione però di non andare a muovere la schiena quindi mentre opponiamo resistenza non dobbiamo andare a spostare il peso del nostro corpo sul lato. Ciao e buon allenamento!